Gioia Sport.com il blog con tutto lo sport della tua città Con Despina, Papa Michael, finalista di questo torneo Open Spadafora che vale l'accesso alle prequalificazioni degli internazionali d'Italia a Roma una finale tra pochi minuti contro la Franzè tutta da vedere e da gustare Sì, sono molto contenta che sono in finale, c'è un unico obiettivo perché è solo la prima a prendere il posto però comunque ogni partita è tosta e bisogna affrontarsi con il giusto modo Hai sconfitto in semifinale Stefania Gattuso, è stata un'avversaria temibile Sì, l'ambiente pure, le ragazzine che facevano il tifo per lei perché lei è da qui abbiamo fatto una bella partita e la gente si è divertita Tu sei di nazionalità greca però sei tesserata con un circolo italiano, giusto? Sì, io sono tesserata stampa a Torino però mi alleno a Iesi con Massimiliano Barella Hai già affrontato la finalista di oggi, la Franzè? No, non abbiamo mai giocato L'hai vista giocare? L'ho vista un poco ieri però mi devo focalizzare sulle cose mie e poi da vedere dentro del campo Fisicamente? Fisicamente abbiamo avuto un infortunio poco tempo fa però stiamo bene ora Con la testa ci sei, oggi si vince? Sì, sì, con la testa ci sono oggi